Non mi sembrava così complicato. Non scappare, io sono bravo! Bravo a picchiare! Non mi scapperai! Non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare. Non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare. Non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare, non mi scappare. Maledetto, dove si è nascosto? Mi stavo dietro, ne sono certo! Non mi scappare, non mi scappare. 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 Grazie a tutti. 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 Mi tengono qui ormai da mesi. Ti prego, portami via. Prima voglio sapere di questo. Non c'è tempo. Ti dirò tutto una volta fuori. Ma ora andiamo. O torneranno le guardie. Bene, andiamo. No, no. No. Controllano l'entrata principale. Dovremmo scendere di sotto per evitarli. Seguimi allora. In silenzio. Cielo, hai bisogno di un po' 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 di un po', e hai bisogno di un po' di un po' di un po' di un po. Di qua Come vuoi Aspetta Cazzo Muori falso patriota No Di qua Un momento Cittadino fa il muscifo Davvero Seguimi Resta lì Muoviamoci Sì Vieni d'occhio i tetti Ci sono sentinelle anche lassù Sei un prigioniero così importante Ehi Un momento! Vittadino, fermo da sei! Ci semina! Presto! Aiutatemi! Aiutatemi! Aiuto! Germain! Cambio di piani! Non mi sfuggirai! Non fare niente di stupido! Ora lascialo andare! Indietro! Stira del cielo! Cosa ha fatto? Quello che dovevi! Vieni! Andiamo! Sì, sì, è certo! A-t'il perdu la raison? Bonjour! Sì, è una rivoluzione? Sì, è una rivoluzione! Era una commessa insolita! Sì, è una commessa insolita! E in effetti mi ha incuriosito! Di recente ho indagato sul conto di Lafreniere e... Ho scoperto una cosa incredibile! È un templare! È questa la verità? Sì, io credo di sì! Sono rimasto abasito! In ogni caso, alla fine Lafreniere ha saputo delle mie indagini! Mi ha tenuto in bottega da allora! Lavoravo per lui! Armi, ovvio! Dove lo trovo? Beh, Lafreniere è un tipo difficile da individuare! Di recente ho sentito che parlava di consegne da proteggere alla Holoplay! Qualcosa di losco, ma non so cosa! Se posso, perché ti interessi a lui? Ha ucciso una persona a me cara! Voglio sapere perché! Capisco! Mi dispiace molto! Presto torneranno a cercarti! Ti conviene sparire! Sì, suppongo di sì!